Benvenuti a tutti ragazzi siamo anche a centramen benvenuti in questo nuovissimo video Siamo qui oggi con un ennesimo video di LOD Insieme a Kronoshock che è andato in bagno A pesciare Che va a D-CaryDraven Electric che va a Blitzkank Support Salutarai No io non saluto Falcavo Meraviglia che va a Garen Top Solo che non sta su TS D-R4-9-2-7-1 Che va a D-CaryDraven E io mi ricordo come che vado Mid-Wayker Guardate quanto è Swaggart la squadra di Matteo Madonna Prima avevo amoreccato una partita E Brand Questo caro amico Brand Me lo so ritrovato che mi ha stracciato Giustamente me lo ritrovo nuovamente in questa partita Giusto Solo che questo so di sicuro che lo sa usare dato che ha la squadra Ma è un rubo sempre vero Teo? Troppo No è luce, è luce Troppo E' un easy champ Se li ha letto Dopo vado Mi prendo Cazzo Cioè capisco Veigar non so se Un champ Però non penso No 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 Forse un po' Giusto un po' però Chi? Vabbè Veigar Eh? Mi è arrivato un pesaggio No non parlate una volta Non è stata parlata una volta Ma cazzo di vecchio No non è napolato E' frammento E' milanese Vabbè non mi interessa Stiamo aspettando Che è ben arrivato Stiamo cercando Salve Hai ragione Ciao Salve a Matteo Salve Matteo Sì Sapevi che Ha 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 Non lo sapevo Oh Marchesio Sai che è solo nei tuoi video Bestemmio senza accorgermene Perché in quelli di Luigi Per bestemmiare Devo farlo apposta E' già abbastata perché E' troppo forte E' me ne ho da FK Ancora? Ma deve dare a pisciare di mezzo minuto No non è vero Ragazzi Sto dando una pacca Sulla gamba Alla torre C'è noi in realtà Tu dove stessi Sto a terra da re Madonna mi si Mi si era impallato il pc Ho avuto una paura Voglio Ragazzi si sta dando Delle pacche sulle spalle Alla torre Bravo Vieni come mezzo 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 Andiamo fare l'invade in 2 No Matteo Vieni qua Vieni qua Perché? No 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 Non possiamo farlo Non possiamo farlo No loro vanno Vieni qua Vieni qua Appena passano di coppia Vieni qua Eh no Perché ascoltami Una cazzata Perché Non ho la E Infatti Vattene Ah la Jigs e Morgana Serio? Vieni qua Matteo Te Ci sono io Io che ha un tero Jigs Anch'io Però Morgana Counter a te Sì ma Vuoi sapere che Ma lei è Morgana Io sono io E' esatto Tu sei tu Io sono io Gesù Io sono Io sono Iblis Che hanno l'orenza Jungle Che coglioni Ah No Ha fellato Al tre Si ingaggia No al due Facciamo il due Dai Ma si Vuoi fare anche al 21 Per me Anche al 2 Lo devo fare No Sì ma senza E che lo stun Non combino un cazzo Beh io non Contate che normalmente Quando uso Biscount Già altre facciamo Le video qua Facciamo La prima kill Al tre fai sesso Un complice Che cosa Ma guarda quanto è bello Brand Cazzo Sì ma io ci ho prendo ZOMB Io ci ho prendo ZOMB Io Gesù Io ho trovato L'altro band E' quello che sembra Cala maschera Di quella bella Io ho trovato In una misteri brand Gio mi Quindi Tu 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 Che culo Che culo Che culo Beggio ragazzi Vorrei dire Brami Questo brand Mi sta un po' Sulla strana Ma tu lo ha Un po' Ma che culo che c'è Altri Non glielo Gli lo volevo dire Per non essere Troppo cattivo Ok Tra uno via Anzi guarda Raga Anco tuttuno No Eh cos'hai Niente Vai marchini Però no Vuoi vedere Come si tiravano Borgiano Vai marchini No Veramente si Però Sto facendo le cose a caso Stai tranquillo Dovevo blessare Ormai Sotto torre Sorry Guardate che mi incazzo Se fate forse blood Prima di bleed Crank Ecco Magari al prossimo tentativo Ok Ok Ho pensato dopo Che poi devo flashare Però Se flashavo dopo Arrivavo sotto torre Quindi mi ammazzava la torre Oh figlia di troia Eh La botte ovviamente Non ce li sa Tutto vado un po' Tonto La botte Non ce ne che bisogna Ho detto infatti Blizz Ci stupriamo Quella Jinx Eh Se le Se levano Che il minion Della mezza Sì Ecco Non possiamo più stuprare Jinx Lascia 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 Che lo Eh Puttana Ti hai visto? Mi le va tanto al cazzo Nooo Che la tua canzone Vai 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 Ok Ok Ma che vai via Io lo so che a poco Ma Ma Chi non vedo l'ora di fidare Viglia Un po' Devi darmi tempo Che io non mi si segui Rigenerato Per farlo come Il culo Vai 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 Come grabare Jinx Tu era il numero uno Tirare grabbacasa Non ci voglio credere No Un paio di bozzi di mano Eh devo recallare adesso però Vai vai Ma che sarò lei che sopra me Tanto sono io Oh Dio Senti portai E' bravo sto prendo però eh Minchia Appunto Quando se la grabavi Guarda io perché sono Stato T'era un po' indebolita Sì dai Viglia E' bello Viglia Pagano Viglia E' bello Tantà E' bello Viglia Viglia Senti pure un caldo e si no appena ti fai l'accogliere 5 diventa facile far spammarlo sto manendo minuto marchi eh ma non è possibile anche io sono pozzati le pozzati di mano ma si sono fatto il 6 che è tutto faccio facile eh ecco adesso io picchio tito ti giungi quando hai il 6 eh eh manca un quarto pollo sciotta ok c'è il seno e' attimo se c'è di non sono vicino lo dico non sto a me la porco dio la porco dio io ho anche visto mamma mi hai guardato ah tu hai guardato mi hai guardato ma chi se ho gli vengo da qua ma chi se vengo da qua ma chi se vengo da qua ok ma lo pucia il più possibile ok se ci fai un gran botte sono felice e hai aspettato gli ho aspettato di averla marchisa sto volendo stu no a chi aiii io ho preso comunque tanto 1 non ci vuoi 2 marca il gas di me ho anche il famoso tanto puoto synagogue Matteo è l'ultimo, dimmi lì Non c'è Non vuoi dare una chitaggia Sei, è quella cazzo Quella cosa che ti vu Ma Matteo Ma No Draven Non è l'ultimo Eh, via, quello era morto Lo so, ho visto Quando è che se le sei, Draven? Tra poco Ma chi si viene a prenderci blu, ah Lo scammi dietro Calcolo che mi mancavano due mini Bravo, fammi arrivare a sé che a me vedi cosa gli faccio Non facciamo sesso con lei, tra poco Esatto Ma io vi posso dire la troia Che la troia non lo voglio fare un palino Do je, ho fatto Lo sp原ato da un ultimo locale Ti arrivi Masters Va bene No Cazzo il drago il drago il drago è tratto Come non sto avendo Non so, ci sto già andando io Vuoi vedere come stilare un drake? Vuoi vedere come si stila? Sì No No Se voi invece ci andavate Anziché fare così apposta Era meglio ragazzi Almeno non mi dà un entrato Olori, sai che ieri mentre tu non c'eri Ho fatto una partita con Mastery Jungle Ho fatto due bar Uno still, la squadra nemica Cazzo è Ah, flacciata, flacciata Sto arrivando, amore mio E' no flash Please, no Non ci muo Non sono stupido Ma chi so quanto c'è Dai, Matti Ce l'ho già l'aerrore Vai, vai Posso solo farti la setta perare Oh, vieni No Ho avuto un'errore Ragazzi, arriva Brand Occhio Va bene, ti sei salvato te Va benissimo Mi obiettivo è coprire la di Carey Mi, va bene 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 Andiamo se lo facciamo a farcelo C'è una triple kill easy per tutti No, rieccolo Vabbè, no, dai Adesso sta Vai, fa, fa Ma tipo Che mi sono fatto con il war week No, li fatti Aspettami, non riaspettami Vabbè, vai C'è Bravissimi 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 B, come r La r Ditta 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 Tanta roba Oh, marchissimo La r Sì, sì Allora, marchissimo Allora, ioミ, lo untù Tu lo blocchi Ce lo facciamo A bè Dai, io Mattia Ti ho fatto fare C'è niente da fare Figa Io di Carey La lena è vinta Per forza Figga Nooo Ma che Ma 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 ti pare C'è So Ho la no, è bello, Matteo Sapport la lane è vinta sempre, Mar Sapport il 40% delle volte è vinta e Lori Sapport? Lori Sapport il 90% delle volte eh che ho convinto Gigi ma il nemico sta solo a 1 kg sola la squadra è giocato eh perchè ho avuto Wicked Top eh non mi dire perchè non ti sto facendo fidare eh non lo so ma basta ma non vedi quel support in hub vieni qua vieni qua lì che cazzo non è appena puoi mi tagliare mi piace gli SS morto eh scusate non è venuto credevo che era ancora morto mi gira il cazzo però adesso I like, I like SS SS morgata bravo che abbia fatto a 3-2 minuti qui è dedicabile nessuno sa rispondere a questo Draven Lori Lori aspetta aspetta 13 minuti e mi son concluso cosa? aspetta guarda un attimo adattimo ah eh eh ma no ok si ma devi ringraziare il support eh si senza support aspetta 20 secondi senza support il come faccio a fare sesso con jinx oh guarda quella Morgana ma marchesio dove hai brand? ultimo dopo tipo non è morto a 2 hp draven ma cos'è un flash 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 oh ma gli ss allora oh scusate non era mid non ero mid anche io e se si deve evitare così l'aida manca morgano sta arrivando jinx manca gira no ok è ancora in botta appena guardato si o marchi dopo facciamo uno contro uno 2 si da un po che non lo facciamo vabbè non la ricorda la recco pure quindi già rispondiamo con il prossimo ehm? la recco pure ok ragazzi sbagliati prova a prendere jikstad ehm non stai sbagliando ragazzuolo 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 ss pure bot ma non ho neanche più voglia di far parte ma chi cazzo me le frega ma avete lotto cazzo vabbè quello fa forse a me perchè è un genio faccio così scappi ma chi cazzo 2 ma chi cazzo ma chi cazzo eh non ce l'ho non ce l'ho non ce l'ho si lori tu lo so che tu vieni sempre eh ma quello morgana me lo cazzo lori ti posso venire in faccia dove stai facendo ma chi cazzo non sono lì dove stai lì cazzo la stondavia morta ma non hai mano ma se io non lo spammare ma anche se non spammare dopo oh 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 devo andare a stirare il drake non andare a stirare il drake no era appena ce l'hai avuto Matteo se lo smite ti muovi no stivi venite con un attimo vorrei no vai vieni che roba lo ho trovato a caldo tutti però lui lo ho trovato a caldo non so perché che mi arrivo davanti ragazzi gink oh porco dio ma abbiamo usato la pasta gg vabbè uo abbiamo vinto il team fa no team stava top no team stava top no team stava top guarda che hai vinto comunque perché team non c'era quindi a posto abbiamo vinto un trade abbiamo vinto un trade abbiamo vinto un trade no ma mi giro il cazzo perché non sono riuscito lo sono riuscito a prenderlo ragazzi non so se è possibile ma te lo facciamo riparo guarda un attimo garen quante tanki ma del tipo non c'è ha ragione Matteo non ce la facciamo farci il barrel no no guardate guardate che non ce la facciamo farci il barrel a parte che non ce ne è anche appunto per quello che non ce la facciamo farci porco rimane da questa parte tu scappa tu scappa ma io tbb che non facciamo solo cazzo madonna oh prende che boh prende fai taglia caso ok 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 non è più la community lo d'oro ma chi entrava non è più la comunità di una volta che entrava tutti i diritti di cento stradifici tipo si in approfondimento il primo il primo il primo il primo il primo prossimo io gioco solo contro il centro per questo che stai io c'è dimmi che di carrie è jinx spiegamelo adesso vabbè chi c'è patata jinx cosa mi fa? auto attack arriva 250.000 di speed attack oh si ma seriamente ma quanto cazzo stavo con la morgana si troppo c'è morgana è un support abbastanza chiaro si appena ok g eh eh ma te lo dico perchè è mia è mia abitudine madonna se la gravo quanta vita ha jinx no è lo è lo puoi ultare puoi però non è andata è andata è andata è andata qui ci prendi porco ma eh ma vive il lub 100 però figa voglio che è ciuto che è ciuto che brand ma non è possibile che figlio di troia figlio di troia figlio di troia cos'è? no me lo spieghi perfettamente io sto sempre non grabbo a nessuno draven haha se mi grabbi gesù morgana ascoltami ecco delori house è morto no non morirà no ha flashato ma c'è morto ma no ha double buff adesso marchizio ti voglio bene salve salve marchizio 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 salve io mi chiamo marchizio e sparo le ulti a caso che bella la bigliettina che bella la bigliettina sparo l'ulti a caso quanto cazzo ma vaga ma vaga ma vaga ma vaga ma vaga 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 ancora 300 ap ma hanno mica modificato vaga marchizio non è me no what the fuck what the fuck what the fuck who ooh che mi chiamato madre no no chiamato una merota mi coiuyos ho la febbra uh non le ho vabbè ho la pezzo ahahahahah è stato lo stronzo che si è tirato gioco ecco lì il novecento di timo guarda lì tutti i novecenti sono lori double infinity a fine partita sto facendo cagare forza stimo vai lori house ecco qua a te 200 sono morto quando mi abbasso ma lo dico vabbè che non mi fa tutti due la tripla quanto studio che la morgana tanto tanto troppo non so fare un forno a scontare del studio perché evidente che torneremo tra poco con l'altro drive come ti permetti di toccare il mio carri non arrivo dai ma scappa 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 è morto non è costruito che mi dà così tanta velocità ma 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 non muoio non muoio non muoio non muoio non muoio non muoio ma certo non si era neanche accendo il termometro oddio lori di scappa but ma se le pare che fatta la vita e mi sono sapato anche la mia guarda aspetta 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 avevo una mano due guarda dove la quel il però poco cosciottato ma oggi guardate il blu per piacere lori tipo troppo sono aspetta poi andiamo a testo tra l'ho piacere aspetta c'era buggato il blu c'era buggato 36 e 2 quando non so che sto facendo una cosa stupida eh molto tutto no tutto no tutto no ma chi va a fanculo no è un caso oh oddio ma che è la clessidra aspetta ragazzi perché manca un allora io sono rimasta la scorsa di domenica perché manca un item il suo posto storie di storia del mondo sto domandando perchè no col bastone colossale si facevano 2 e tre item la moto l'hanno nevato mi sta iniziando a formare la guada e cosa hanno messo eeeh mi sto domandando perchè sei dieci tre l'idea chi ultra non c'era a Ma porco Gio, ma non è possibile Che giù che gli sto facendo, gli sto postando Sì, i Jinx erano facendo comunque Ma perché Jinx ha scritto Rebot Me? Perché quando io ero rimasto tipo sento HP e lei era fulgita La tua torre è stata distrutta Beh, loro c'hanno distrutto o no, la prima torre no La bot l'hanno distrutta, la torre no Eh, Draven, vai ai bot, fatti Minon Ah, ce la do io, va, va io No, no, va a Draven, Draven, non bisogna di bot Va a Draven Va a Draven Draven deve far sesso con i Minion Ma che schifo di farmo, what the... No, 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 no Hello everyone Io solito sempre più farmo di tutti Ma che mica stai facendo, Teo Perché ti stai tankando le wave di Minion Perché mi andavo Ok Ragazzi, la mia W fa ha tipo 700 di danno e la ultima... Ma, Lori, te la sei vista? Ho già, sto laggando in un modo assoluto Ma tipo Lori, ti stanno alluclando? No, sta laggando il server Ho già, sto laggando un po' No, sta laggando il server, Lori No, sta laggando il server Ma pure a voi ha laggato? Sì L'ho visto perché la mossa era arrivata Ma il danno me l'ha fatto dopo Arrivo Sì, ma guarda prende con Zerobu Dai, per favore Guarda il cazzo Ragazzi, mi fai capo Sono contro poco qua Questa è improbabile vincerla però fino alla fine forza lanciano viveva Gesù No, ma cosa qua si vince Non forse neanche il calore Perché Brand no, non si può vincere troppe chi il brand Fa dappre Fa danni assurdi Brand bagaglio Ma tipo 10 di web Ma guarda brand che schifo Lory li ho levato non so quanto HP Lory vai Non te l'ammatti ti ammatti Ragazzi, gli ho lanciato l'urge Ragazzi, ma tipo L'ulti di jeans come è che vi è passato in mezzo? L'ulti di jeans Eh, boh Eh, alla modi swag ult, baby Ehi, Timo Ehi, Timo Vuoi un po' di shwebs su solo io e te? No Ma tipo Ehi, Timo Knock up Eh È poco Sì, tra poco Vado top Ragazzi, devo andare a fare un po' di fame Ma Tito? Vinciamo No, vinciamola direttamente Cosa vuoi fare? Eh, ho bisogno di risolvere Appena arriva a mille Ah, allora Vabbè Madonna Ma io voglio essere fidato così la finisco Presco Presco Sono un coglione Vai Sì 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 Nooo Ma questa qua è la zona ogni due minuti C'è ogni due minuti Ogni due minuti, ogni due secondi Mamma mia che non c'è un po' sto prendendo Ma tutto il cazzo Sto prendendo Sì 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 Ancora la ulti Che mi piega Noi due due falle Eh, vuole che uno che... È tre dieci Arrivo Ragazzi stano avendo il drago St'altra volta Eh... Eh, grazie ragazzi che ci che ci fanno male Hanno tre draghi Con questo e il quarto Noi ne abbiamo neanche uno guarda di noi guarda jinx di chi non li stiamo fred ragazzi se ci muoviamo vado giù bevo una cioccolata e poi torno su ragazzi io da solo mi faccio le tipo 70 kg sto facendo schifo matteo vai ma chi va mi aiuta a salvarlo ma forco dio vai te l'ho fatto se per i posti lol electric vai ma la smettere di roba grabba ok gg bene ok ora ho la zonia voglio non poterlo un po per un po dove non c'erano adesso che hanno levato la presa mortale hanno qualche tanto c'è che se l'è fatto sono un cretino non lo so che adesso io non ho il cose mi serviva a me si era fatte morti ma fanculo lori meno male che non ce l'hai l'ho fatto in guarda ebay margessoni il comitato anche un po di più dai lo sai che mi risciotto calcio come te neanche il margine api e venne e gara io ho anche pingato cinque volte guardate che se ne scappano perché ho parlato guardate che schifo non mi piace ahia 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 ma che tank di loro ma non è tanto non è per il potere magico morgani sta facendo spi ma non c'è nessun tank di loro ma dove cazzo stavo andando io scusatemi un attimo se non lo sai tu stavo guardando no no veniteci veniteci lo sapete che vi dicevo ieri ragazzi vado a botte un attimo liberare la situazione che figlio di troia non ho aspettato il bene lasciatemi Giorgio che mi curo scusate ma perché è Gigi non ho capito non ho capito non ho capito lasciatemi lasciatemi vi saluto ciao 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 Grazie a tutti.